gli incontri con gli animali selvaggi regalano sempre forti emozioni soprattutto per chi vive questa esperienza in prima persona un ciclista pedalando su una pista ciclabile in norvegia si è imbattuto in due alci che tranquillamente percorrevano il tracciato in senso contrario quasi come volessero farsi una passeggiata tenendosi a distanza di sicurezza si tratta pur sempre di animali selvatici l'uomo si gode questo momento emozionante